Il punto zero sta inflodendo! È fuori controllo! Mettete in salvo! Se non lo fermo, può distruggere l'intera esistenza! Hai ricevuto gli ordini! Ora abbassene! Farò quello che avremmo dovuto fare dal principio! Andrò dai sette! Hai fatto un giuramento! Stai tradendo ciò per cui l'abbiamo lavorato! Mi servirà! Dai! Vieni! Sei preso! La gente è fermata! Non andare dai sette! Josh! Josh! Responde! Non! 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 Incredibile, ha funzionato davvero. Senti, so che non hai motivo di fidarti di me, ma... Aspetta, parliamo! Parliamo! Geno! Posso portarti, Geno? E le sorelle? Posso portarti tutti, ma dovrai aiutarmi a riparare quel coso. A fare fatto. Per ora. Ho un motor assicurante. Mettiamoci al lavoro. È il nostro biglietto verso casa. Non farmene pentire. E fa preparare quel looper. Non abbiamo molto tempo. Looper? Di nuovo tu? Lascia stare. Datti una svegliata. Stiamo salvando la realtà. Cosa hai fatto al punto zero? Non è colpa mia. C'è stato... E' tutto ingarbogliato. Non so se posso aggiustarlo. E non ci arrenderemo. Per chi ha parlato di arrendersi? Aspetta! Quando il punto zero inizierà a crescere, non si potrà tornare indietro. ci sono dei portali. Non va bene. Quelli non sono partali. La realtà sta andando in pezzi. Quindi... Li chiudiamo? Tu che dici? Ok, ci pensiamo noi. Sì! Bingo! Ora l'instabilità possono peggiorare. Attenzione alle ondate di realtà! Roger! Staremo attenti! Le ondate di realtà possono tramutare tutto l'unione. Solo una farfalla. Quella era grossa! Tutto bene laggiù? Ora solo una farfalla, quindi... No! Direi che tocca a te. Sarai i miei occhi e orecchie. E braccia. E gambe. Dovrai chiudere quei portali. Ci riuscirai? Certo che sì. Andiamo. Non ricordo che sia un buon segno. Ma è bellissimo. Ottimo lavoro. Ma mi servirà più tempo. Non fremarti. Ricevuto. Vedo altri tre portali, ma il prossimo è molto lontano. Se solo potessimo... Oh, 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 oh! Posso teletrasportarmi? Giù! Dobbiamo evitare i cacciatori! Come non detto? Uno spiagno! Ho passato la vita a studiare il punto zero. Dobbiamo essere più veloci. Non posso continuare per sempre. Resisti! Stiamo andando verso il terzo portale! Dei lupi sono una novità, eh? Wow! Le realtà alternative si fanno strada. Meglio se ci muoviamo. Oh, da-da! Pensa per i miei rimani! Pensa per i miei rimani! Pensa per i miei rimani! Credo che la realtà ce l'abbia con me. È benissimo il tidurale! Come va lassù? Eh? Troppo! Dovete procedere! Ne manca uno solo! Resisti! Abbiamo compagnia! Ora potrebbe servire una di quelle undate di realtà! Ma che è fatto? Quello è l'ultimo! Credo che ci siamo! Che roba! Ok, il prossimo passo è fondamentale. Ehi, tutto bene lassù? Non basta! Non riesco a farlo! Forse posso contenere l'esplosione! Si sta chiudendo dentro! Non devi farlo! No! Se ne andremo solo quando avremo finito! Tanti soldi e blocco aiuto! Forza! Turismo cruzare lo stesso! Ci vediamo! A presto. Jones! Non avremo un'altra occasione! Dovete sigillare il punto zero e sovraccaricare il dispositivo. Sovraccaricarlo? Così resterò nel loop! Dovremmo combattere per tornare indietro. Qualunque cosa succeda, non mollare. Ti troverò e mi dirai tutto! Ti do la mia parola! E... si... Ma!